Ma guardi, lei ha citato prima dei paesi europei, la differenza fra noi e loro è che quei paesi fregando delle direttive europee hanno preso delle decisioni. L'unica cosa che ci distingue da italiani rispetto a quei paesi è che invece noi non prendiamo nessunissima decisione. Questo è il dramma. L'Ungheria, l'ha detto prima, vuole costruire un muro. Da noi sembra che sia tutto impossibile perché non si rispettano i dettami europei. Allora mi chiedo per quali motivi invece la Francia chiude i confini, l'Ungheria alta i muri, gli altri paesi si rifiutano di prendersi le quote.